Io lavoro nel servizio pubblico delle notizie e mi capita di assistere a scene tipo questa. Redazione, arriva la notizia, panico, panico, che facciamo? La diamo? Non la diamo? Ne diamo mezza, così magari c'è qualcuno che dà l'altra mezza, se a casa uno è fortunato, mezza la vede da una parte e mezza dall'altra, mezza più mezza fa uno e ha capito di che si tratta. E se la diamo a notte, così a notte, noi abbiamo dato la notizia, voi magari siete un po' ricoglioniti dal sonno, non l'avete capita bene così, però sveglia mica ve la possiamo ridare, noi l'abbiamo data. Idea, diamo la reazione alla notizia, la smentita della notizia, ma non diamo la notizia così magari c'è qualcuno che dà la notizia, noi diamo la reazione, la smentita notizia, smentita reazione, uno sa che cosa è successo per la completezza dell'informazione, perché noi siamo per la completezza dell'informazione. Musica Dalla Spagna arriva la storia di Abdou Diouf, senegalese che ha raccontato su Instagram il suo viaggio della speranza, eccolo dal barbiere, vuole partire a posto, l'ultima cena preparata dalla mamma, ma nelle foto il sorriso poco a poco si spegne. Ci fanno camminare nel deserto, racconta, altrimenti perderemo i 2000 euro che abbiamo pagato, poi la traversata in barca, infine la Spagna, il selfie di gioia con i compagni. Arriva la polizia e li porta in un centro d'accoglienza, non sono gentili con i sognatori illegali, scrive Abdou, cronista di se stesso, il suo profilo Instagram è seguito da più di 9000 persone, torna a casa tua, scrivono alcuni, tanti invece lo incoraggiano. Lui ringrazia tutti con l'ultimo video dove riappare quel sorriso sdentato che ha commosso il web. Musica E allora in chiusura vi devo dire che a proposito del servizio che abbiamo visto prima sull'immigrato che ha postato su Instagram alcune foto della sua esperienza, non abbiamo detto che si trattava di una pubblicità a favore appunto dei migranti. Ci fermiamo qui, adesso vi lascio come sempre a... Musica 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti